Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro. Oggi le notizie sui giornali non sono molte, devo dire la verità, non c'è da divertirsi su quello che c'è scritto sui quotidiani, pochi commenti, notizie che vengono dall'estero sono poche, insomma non c'è da commentare granché, se non tre cose che sono quelle che oggi ho intenzione di raccontarvi. La prima riguarda il caso del candidato alla regione Lombardia Fontana, leghista che dovrebbe sostituire Maroni alla guida della Lombardia. Cosa dice ieri Fontana in un'intervista a Radio Padania che poi è stata rilanciata da tutti quanti? Dice la seguente cosa, la nostra razza bianca, poi dice anche altre cose, dice la nostra etnia, dice una serie di cose, rischia di diventare minoranza dalle nostre parti, una cosa di questo tipo. Il tema fondamentale è la nostra razza bianca. Apriti cielo, tant'è che lo stesso Fontana poi dice che è stato un lapsus e c'è chi dice no caro non è un lapsus, mi sembra Mattia Feltri oggi sulla stampa, è molto peggio di un lapsus, è drammatico quello che hai detto, sei un razzista e denuncia l'idea che sei un razzista. Michele Serra su Repubblica dice delle cose simili, dice la razza non esiste, dovresti capirlo, sei un ignorante, semmai c'è la nostra società e la nostra cultura. Il problema è, amici, che ci sono due considerazioni da fare, una in realtà è già implicita nell'articolo che fa Michele Serra su Repubblica, nella sua frase Fontana a Radio Padania dice che la nostra società rischia di essere sottomessa, che è un po' quello che ha scritto Hullebec in sottomissione, forse non siamo colti come come Serra, ma non trovo, ve lo dico molto francamente, posto che io penso che non esistano distinzioni come dice la nostra Costituzione di sesso, di religione e di razza, come nota oggi bene in un fondo Alessandro Sallusti, cioè la nostra stessa Costituzione parla di razza dicendo che, il negativo, dicendo che non si deve pensare che esistano distinzioni di razza e che siamo tutti uguali nonostante diverse razze, allora se lo dice la nostra Costituzione lo può dire anche Fontana, dice Sallusti, quello che io dico molto più banalmente e lo dico con il mio amico Daniele Capezzone che oggi, pur criticando, Daniele è un ex radicale, è un liberale a tutto tondo, quindi capisco perfettamente la sua critica, diciamo ontologica a quello che dice Fontana, l'imprenditore ed un barde forse un po' più rozzo, ma cosa dice giustamente oggi Capezzone? Dice attenzione, ciò che rischia di essere, di scandalizzare l'elite non necessariamente scandalizza il popolo, va bene? Ciò che rischia di sembrare obrobioso, di sembrare orrendo per l'elite probabilmente non altrettanto può valere per il popolo, ma quello che io voglio dire è perché una frase per cui in maniera ridicola la comunità ebraica si è offesa, voglio dire la comunità ebraica a cui io voglio molto bene, ha molti motivi per offendersi, ha molti motivi per combattere, ha molti motivi per pensare che lei sia discriminata e che Israele venga considerato come uno Stato canaglia mentre è l'unico Stato democratico in quella parte del mondo, ma certo non per le dichiarazioni di Fontana, quindi si senta la comunità ebraica con i suoi rappresentanti offesa per altre cose, non per questa stronzata di Fontana, la razza di Fontana, questo è il tema fondamentale che voglio dire, andiamo al concreto, vuol dire semplicemente una cosa banale e cioè che ci sentiamo spesso ospiti a casa nostra e che ci sono delle zone in cui non vivono le elite che si imbattono in questo scandalo di razza, per cui obiettivamente inizia a esserci la sottomissione che era quello che diceva ieri Francesco, Papa Francesco e cioè ragazzi la nostra cultura, le nostre tradizioni, i diritti delle nostre donne, i diritti del nostro lavoro, i diritti della nostra laicità, i diritti del nostro Stato in cui religione e il governo sono distinti, questo vuol dire la nostra cultura, che poi lui l'abbia espressa male, secondo alcuni, in maniera razzistica, secondo me è una cosa che il popolo, a differenza dell'elite, ha capito perfettamente cosa intendeva Fontana, Fontana non intendeva alla Sidney Poitier che quella è l'Alabama, il diverso da te per il colore della pelle, per la razza non è accettabile, diceva una cosa completamente diversa e la capisce anche un bambino, se poi lui avesse voluto dire che il nero solo perché è nero, il cinese solo perché è cinese e il rosso solo perché il rosso è inferiore, superiore, diverso da noi, beh questo è un altro discorso che non mi sembra che sia contenuto nell'elemento politico di questo momento, l'elemento politico di questo momento soltanto sei gli occhi foderati da prosciutto, prosciutto, non capisci che il tema non è la razza, è la nostra cultura, è la nostra tradizione, va bene? Questo è quello che cercamente ha detto chiaramente Fontana, se poi si vuole far finta di essere razzisti e si devono fare le manifestazioni per l'accoglienza come hanno fatto a Milano per fare i fenomeni non rendendosi conto, questo sì in modo razzistico che ci sono delle parti delle città che ormai sono incontrollabili, ma non è colpa degli immigrati, ci sono tante colpe, in questi giorni sono tutti pieni giornali delle baby gang, ci sono le baby gang latine, ci sono le baby gang napoletane, ci sono le baby gang torinesi, ci sono quelli che bestemmiano fuori dal supermercato e insultano una signora che si permette di dire la sua, ci sono tanti baby gang, però il punto fondamentale è che oggi arrabbiarsi con Fontana mi sembra una cosa ridicola. L'altra questione che vi voglio segnalare, molto bello Facci anche su questo, oltre a Sallusti e Facci sono i due pezzi in cui si mettono in evidenza le contraddizioni delle critiche a Fontana. Poi l'altra cosa che vi voglio segnalare, quindi ricordatevi, nulla contro la razza, tutto a favore della nostra tradizione e della nostra civiltà, non mi sento razzista, non mi sento discriminante se considero le mie radici, la mia tradizione, la mia civiltà come scrivono oggi Sallusti, come scrive oggi la Costituzione, come scrive oggi Facci, siano da difendere. Chiaro? Seconda cosa, voglio dirvi la verità, anche su questo, io sono scandalizzato, Nogarin che si becca il quarto avviso di garanzia, prima per il fallimento, poi per i rifiuti, poi per la bancarotta, quindi ne prende uno dietro l'altro, è il sindaco del Movimento 5 Stelle di Livorno. Allora, l'etichetta Nicola Porro, giornalista di destra, è Nogarin né un cretino, finalmente ci siamo resi conto che questo è un ladro. No, io penso esattamente il contrario, penso che Nogarin che sia stato accusato di concorso in omicidio colposo per quello che è successo tra il 10 settembre del 2017, cioè l'alluvione di Livorno, in cui lui si trova a casa, in cui le previsioni del tempo dicono che non dovrebbe essere su Livorno, si trova a casa, piove, diluvia, si sveglia alle 5 di mattina perché c'è l'allarme in casa sua per cui arriva il blackout, ci sono 30 cm di acqua a casa sua, non c'è la luce a casa sua, non funziona il cellulare a casa sua, esce da una finestra di casa sua. Lui, come migliaia di cittadini livornesi, quando c'era stato l'allerta meteo per la Liguria e non per la Toscana e non per Livorno e cambia perché oggi soltanto i pazzi del cambiamento climatico, cioè il Movimento 5 Stelle è sicuro di quello che avviene fra 10 anni nel clima, fra 20 anni nel clima, fra 30 anni nel clima, lì non si è riusciti a capire cosa avveniva in una perturbazione dopo 8 ore. Bene, che cavolo c'entra Nogarin, sindaco di Livorno da un anno, due anni, con la morte purtroppo di 8 persone perché era capo della protezione civile e chi se ne frega, questo è un paese assurdo, assurdo perché un sindaco deve avere un concorso in omicidio colposo, non stiamo a parlare di abuso d'ufficio, concorso in omicidio colposo perché sono morte 8 persone in un'alluvione, è una cosa incredibile, incredibile ragazzi, non per altro, ma perché qua noi ci troveremo sempre Nogarin, gente disoccupata, non Nogarin in questo caso, gente che non ha nulla da perdere per fare i sindaci delle nostre città, queste nostre leggi che ci siamo dati, complice il Movimento 5 Stelle, complice il PD, complice quest'area di moralismo incredibile per cui tutti sono corrotti, colpevoli, omicidi e il magistrato deve controllare, l'ANAC, l'agenzia che si occupa della corruzione si occupa di spelacchio, un altro sindaco nel Movimento 5 Stelle, ecco, in questo mondo i nostri rappresentanti saranno sempre il peggio del peggio, pagati poco, rischiano la galera, chi cavolo andrà a fare il sindaco di una città in questo paese se Nogarin viene, e la Vincenzi a Genova viene condannata per omicidio colposo, voi direte sono tutti responsabili, devono dare l'allerta, allora facciamo così, i sindaci quando c'è una previsione anche di maltempo chiudono le scuole, chiudono tutto, ragazzi lì si parla dell'aver tombato dei fiumi che avevano fatto le gestioni precedenti e le gestioni precedenti diranno che hanno tombato quei fiumi perché c'erano dei cittadini che volevano unire in quei, avete capito il mio ragionamento? A me spiace, abbiamo fatto costruire troppo, abbiamo scientificato le città? Eh sì, abbiamo cementificato le città, perfetto, Nogarin quindi in galera per omicidio colposo, questa è l'indagine, una cosa incredibile, certo l'indagine poi si risolverà, l'architazione, quello che volete voi, ma voi cercate di essere indagati per omicidio colposo, state sereni quando siete indagati per omicidio colposo, ultima cosa, una che invece invece in galera dovrebbe stare e che inspiegabilmente nonostante tre, tre ergastoli non è in galera è Barbara Balzerani che faceva parte del commando che ha ucciso gli uomini della scorta di Moro, ha ucciso Moro e non si è neanche pentita di quello che ha fatto e sapete cosa scrive su Facebook? Scrive, ah dovremmo festeggiare all'estero i 40 anni dell'omicidio della strage di Viafani, ecco io una persona così che ha tre ergastoli decisi dalla magistratura, altro che Nogarin, altro che i nostri, beh questa scrive su Facebook dobbiamo festeggiare, questa sta lì che può scrivere su Facebook dobbiamo festeggiare, ha gente che è ammazzato e che non si è pentita, ma non che non si è pentita, chi se ne frega, ha ammazzato dei poveri, innocenti, gli uomini della scorta, ha ammazzato il suo commando, ha ammazzato i professori facendoli inginocchiare e poi sparandoli alla nuca, chiaro? Si inginocchi e spara, non è Narcos, è l'Italia degli anni 70-80 e questa qui può ancora scrivere su Facebook che bisogna festeggiare i 40 anni, il galera, e non lo dico soltanto io, oggi il pezzo migliore, a parte quello di Guzzanti che è molto buono sul giornale, beh veramente è uno che conosce bene la vicenda, è di Luca Telese, leggetevi Luca Telese e vedete il ragionamento da garantista come Luca Telese, perché certo non si può definire un manettone, e da uomo certamente non di destra, come è normale che sia quando tu vedi quello che scrive la Balzerani e la sua storia carceraria e brigatista, per la quale è indecoroso che nello stesso giorno, devo vedere la Balzerani che pontifica su Facebook, sulla via di Viafani e le prime pagine dei giornali dedicate a Nogarin che ha un'inchiesta per omicidio colposo, va bene? Colposo, il sindaco di Luivorno, mentre quella sta su Facebook e ha ammazzato persone, le ha fatte inginocchiare, gli ripeto, inginocchiare, è sparato con un Kalashnikov qua, alla nuca, professori democristiani, vabbè, ciao, anzi no, condividete questa zuppa e questa sera come sempre Matrix alle 23.30, questa sera facciamo Silvio Berlusconi, domani sera facciamo Matteo Renzi, la settimana prossima stiamo alla resisperata ricerca del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto fico la settimana scorsa, ma vorrei Di Maio, i tre leader che si candidano a diventare la guida di questo paese, tutti e tre a Matrix, ciao!